Non so se a due è così, ma caro Stonghi, quando hai numerico genetico, numerico 42, hai prenotato? Ma come hai già prenotato? Sì, adesso si prenota. Ma tu hai una santa pacienza, perché poi devi pure essere un mago, perché già prevede qualche malato. Ah, scemo! Ma poi prenota, faccio una azione come si deve, una azione corretta è prenota. Ti metto là, a spietto, mi ricordo il video prima appuntamento, così subito mi spiccio, ma non è capato. Per com'erga, invece metto la mano in lotto, metto la mano a 10-10 e mezzo. Tranquillo, poco placido. Tu stai là a spietto, stai quasi per entrare, quando all'improvviso viene uno con un rito e fa... Scusa, madrasi tu! Tu fai sì, devo entrare io. Tu posso chiedere una cortesia? Cioè, poti entrare io in un momento? Un second, devo chiedere solo una cosa, non devo fare niente. Allora tu stai là, ci vieni in un momento. Ma ne fatemi abbia caccio, fumma con azi. Che te allogai? Ah, vorbe. Però sa, c'è un fapo, sono scostumato. Va bene, intra un attimo, non ti preoccupare, aspetto. Adicò, adicò si a te chiedere una cosa. C'è schiccio! C'è un'agenda che c'è una support. Tutto qua andam a chiedere gokos. Tutto qua andam a chiedere gokos. Tutto qua andam a chiedere. C'è un'agenda che faccio da sti mirgi a spittua. Abra notatio. O, 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 mirgi che bene d'arte. E che gli stai senti a chiedere una cosa. Nadai, nadai, iiii, iiii, iiii. Vabbù, ciao!